Noi abbiamo giocato per vincere la partita, ci siamo in una situazione non facile, ci siamo messi lì, abbiamo pensato a come potevamo girare la partita senza due giocatori importanti e onestamente abbiamo fatto il nostro lavoro dove potevamo soltanto essere più cattivi in certe situazioni perché quello che dice Luca è vero per la sua squadra ma è vero anche per la mia perché noi abbiamo avuto due possessi sui tiri liberi e non li abbiamo saputi sfruttare, lì non può succedere una cosa del genere, però io non ho dei ragazzini in campo in quel momento quindi lo sanno loro meglio di me, bisogna che glielo dica io. Chiaro che eravamo stremati alla fine perché ringrazio Luca dei complimenti sicuramente si può dire tutto ma non che abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita e non è stata facile perché non è stato facile approcciarsi alla partita, non è stato facile assettare un cambio di quello che poteva essere il nostro piano gara dal venerdì notte al sabato mattina, l'abbiamo fatto con una precisione direi e una determinazione che questo sì era difficile presagire prima della partita, io credevo che lo potessero fare però sapevo che gli altri ci avrebbero messo in grande difficoltà